Dove non arriva il calcio giocato, spesso la statistica aiuta. È il caso del centrocampo dell'Avellino, bistrattato e criticato per le prestazioni fatte vedere in queste 36 giornate di campionato. Eppure, a snocciolare le statistiche della Lega di Serie B, la situazione appare piuttosto diversa. Nelle speciali categorie riservate ad assist, occasioni create e cross, appaiono infatti due calciatori bianco-verdi. Nei primi due casi, il protagonista è Salvatore Molina, autore di 7 assist ed altrettanti occasioni create, mentre la Veroni è tra i leader dei cross fatti, ben 156. Insomma, a leggere freddamente i numeri, il centrocampo bianco-verde c'è e lavora attivamente, soprattutto sulle fasce dove operano Molina e la Verone. Eppure, inutile nasconderlo, uno scollamento c'è e soprattutto nei minuti finali delle partite. Anche in questo la statistica ci viene in aiuto, se dunque nella fase offensiva il centrocampo supporta e spinge il gioco offensivo, è nella fase difensiva che diventa estremamente carente. Sotto accusa spesso, infatti, sono finiti i difensori senza tener conto del mancato contributo che arriva proprio dal cuore del gioco. La fase difensiva può e deve essere migliorata, soprattutto con l'aiuto dei cosiddetti mastini, a partire ad esempio dal capitano Angelo D'Angelo. Dolorante negli allenamenti degli ultimi giorni, potrebbe come sempre rappresentare l'arma in più di un centrocampo che troppo spesso esprime poca sostanza ed ancor meno carattere. Lo scettro in queste giornate di assenza lo ha regalato a Ditacchio, che senza ombra di smentita si è dimostrato un vero e proprio punto di riferimento, guadagnandosi tra l'altro anche il titolo di giocatore più falloso della categoria, con 91 falli commessi, Arcigno, descriviamolo così, come un giocatore che ha voglia di supportare la causa fino in fondo.